ecco qua abbiamo i due gemelli della mano in mezza che adesso mi agganciano un orecchio ecco il maschio anche lui ha giocato un po i maroni oggi ma comunque quasi è un discepolo del lodo non c'è niente da fare il suo corpo eccolo lo sai cos'è un luco? no mi sa cos'è un luco no mi sa cos'è un luco no mi sa cos'è un luco no mi sa cos'è un luco